Stai facendo tantissime tappe, siamo contentissimi, questi 30 anni sono fortunatissimi tra l'altro Beh diciamo che è un bel momento, magari ecco giusto per ricordare un percorso che ho fatto che è abbastanza importante quantomeno per me e quindi sono felice ed entusiasta in questo momento davvero Ti accompagna una band importante, se ne vogliamo parlare anche in questa tua missione che hai in Italia Sono grandi musicisti con i quali lavoro da anni, ormai è una band rodata, Ingo Schwarz al basso, Fabio Giandona alla batteria Dario Zeno alle tastiere e Alberto Lombardi alla chitarra elettrica e quindi ormai abbiamo creato un certo amalgama e ci stiamo cominciando a divertire anche se adesso l'estate sta per finire, però è un preludio di altri concerti che faremo Tra l'altro anche in radio abbiamo sentito qualcosa di nuovo tuo, l'estate per te non sta finendo perché abbiamo ancora altre date in Italia, giusto? Assolutamente sì, continueremo a suonare, in radio c'è una canzone con Andrea Agresti che è un caro amico, benché una iena, però nella vita è tutt'altro Ci divertiamo moltissimo a cantare questa canzone che è una parodia dei tormentoni estivi, una canzone brutta, ci divertiamo dai Grazie a tutti